Se ci sono le chiacchiere non c'è armonia, la ricerca forzata dell'uniformità uccide la vita della Chiesa e i doni dello Spirito. Con questa riflessione Papa Francesco ha salutato i fedeli radunati in piazza San Pietro per l'udienza generale, nonostante il tempo inclemente. Soffermandosi sul tema della cattolicità, della sposa di Cristo, il Pontefice ha approfondito tre significati fondamentali. Anzitutto ha precisato che è la casa in cui viene annunciata tutta intera la fede, in cui la salvezza che ci ha portato Cristo viene offerta a tutti. Non ci si può isolare dunque, ma si deve crescere e camminare in una comunità, la Chiesa appunto, che è cattolica anche perché è universale, non un gruppo di elite, ma è inviata nel mondo per annunciare il Vangelo a ogni uomo e ogni donna. La Chiesa non è solo all'ombra del nostro campanile, ma abbraccia una vastità di gente, di popoli che professano la stessa fede, si nutrono della stessa Eucaristia, sono servite dagli stessi pastori. Infine, una terza nota, la Chiesa è cattolica perché è la casa dell'armonia, dove unità e diversità sanno coniugarsi insieme per essere ricchezza. Nei saluti in lingua araba, ricordando il viaggio di Benedetto XVI in Libano lo scorso anno, Papa Francesco ha infine invitato tutti ancora una volta a pregare per la pace nel Medio Oriente, in Siria, in Iraq, in Egitto, in Libano, in Terra Santa.